Ben ritrovati con il telegiornale su Arezzo TV, apriamo subito parlando ancora una volta del maltempo in Emilia-Romagna perché le condizioni delle arterie nei territori flagellati dalle alluvioni hanno determinato una decisione che riguarda il tratto toscano della E45 che come sapete era già chiuso da alcuni giorni in ingresso da Sansepolcro Sud al traffico pesante, adesso questa decisione è stata prorogata. Le alluvioni che hanno flagellato il territorio dell'Emilia-Romagna in questi giorni continuano ad avere delle ripercussioni anche nella viabilità toscana. La limitazione del traffico sul tratto toscano della E45, in particolare il blocco ai mezzi pesanti in ingresso da Sansepolcro Sud nell'Aretino rimarrà in vigore fino a lunedì 22 maggio alle 12. È stato deciso in queste ore dalle prefetture di Arezzo e Forlicesena. Le condizioni delle arterie nelle zone alluvionate del territorio emiliano e romagnolo hanno determinato questa decisione. Lo stop al traffico pesante servirà soprattutto anche ad agevolare le operazioni di soccorso. Il personale ANAS si trova sul posto per dare le corrette indicazioni insieme alle forze dell'ordine. Ai mezzi pesanti viene comunque garantita la percorrenza fino all'uscita di Pieve Santo Stefano Sud dell'Arteria. E sempre sul fronte maltempo, oggi a margine della inaugurazione dei nuovi locali della CIA di Arezzo, Confederazione Italiana Agricoltori, il Presidente nazionale si è appunto espresso su quello che sta accadendo proprio in Emilia-Romagna. L'agricoltura ha detto è in ginocchio, servono strategie per la difesa, per difenderci dai cambiamenti climatici. Ma sì, io provengo da quei territori, sono territori veramente in ginocchio, disastrati in generale, l'agricoltura ancora di più. Purtroppo abbiamo frane e smottamenti che stanno ridisegnando il territorio collinare della Romagna e dell'Emilia e purtroppo ovviamente l'acqua in pianura sta letteralmente compromettendo i raccolti per quest'anno, ma ancora di più sulla frutticoltura probabilmente creerà enormi danni anche alle piante da frutto. Così il Presidente nazionale di CIA, Cristiano Fini, oggi è ad Arezzo per l'inaugurazione dei nuovi locali della sede aretina dell'Associazione in merito ai danni all'agricoltura causati dalle alluvioni nel territorio emiliano e romagnolo. Paradossalmente invece in Toscana, soprattutto nel 2022, gli agricoltori hanno dovuto fare i conti con la siccità. Dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni volte a trattenere l'acqua durante i periodi più piovosi per rilasciarla durante il periodo estivo siccitoso. Quindi va fatta una strategia, una strategia fatta sì di grandi invasi ma anche di piccoli bacini. Non siamo noi agricoltori che dobbiamo decidere dove e come farli, ma ci sono dei tecnici apposta che devono studiare laddove vanno fatti, laddove va creata una rete di distribuzione soprattutto dell'acqua che sia adeguata per cercare di fare arrivare l'acqua alle aziende agricole anche e soprattutto qui in Toscana che è una delle regioni più importanti d'Italia dal punto di vista dell'agroalimentare. Vista la situazione in Emilia, probabilmente il settore agroalimentare toscano, come diceva il Presidente, uno dei più importanti d'Italia, dovrà un po' anche sopperire alla mancanza di prodotti che evidentemente ci dobbiamo aspettare. Quali possono essere le strategie per sostenere ancora di più l'agricoltura toscana? Se sembra paradossale dirlo oggi perché con quello che è successo appunto in Emilia dire che manca l'acqua in agricoltura sembra paradossale, ma purtroppo i cambiamenti climatici sono questo, quando piove, piove tanto e piove male, malissimo, lo abbiamo visto ora, e poi ci sono lunghi periodi siccitosi. Ecco, se dobbiamo cogliere questa sfida e quindi riuscire a produrre e produrre anche di più, ecco, questo non si può fare senza acqua. Arezzo può fare la sua parte perché noi abbiamo dei territori dal punto di vista produttivi eccellenti, eccezionali e aziende pronte e dinamiche. Gli manca l'acqua e abbiamo la diga di Montedoglio. Mancano proprio i distretti irrigui, quindi la rete di distribuzione, mancano i tubi. Credo che oggi più che mai sia necessario mettere in campo tutte quelle azioni, quelle forze per poter riuscire a mettere i tubi a terra e consegnare l'acqua alle imprese di questo territorio. L'appello a chi va? La regione, agli enti locali? Qui è un lavoro che va fatto a più mani. È un lavoro che parte sicuramente dal territorio, coinvolgendo le imprese, il consorzio di bonifica, l'ente Out che gestisce la rete di Montedoglio per passare dalla regione e arrivare fino al governo. Siamo alla cronaca, oltre 30 anni di oblio, quattro sculture in marmo del XVII secolo raffiguranti alcune muse erano state messe in vendita negli anni Ottanta alla fiera dell'Antiquariato. Poi di loro si erano perse le tracce, in realtà quelle pregiate opere prima di essere esposte nei banchi aritini erano state trafugate. Solo dopo complesse indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze sono state ritrovate e riconsegnate al proprietario. L'operazione ha portato alla denuncia di tre persone accusate di ricettazione. Si tratta di due antiquari fiorentini e l'uomo che al tempo commerciò le statue ad Arezzo, un pregiudicato di Montevarchi. Un'altra preziosa opera sarà riconsegnata proprio domani, sempre dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, questa volta dei carabinieri di Genova. La cerimonia è prevista a Lucignano, ma ovviamente vi daremo altri dettagli nel nostro telegiornale di domani. Adesso invece parliamo di donazione di sangue perché cresce la raccolta di sangue da parte dell'Avis in provincia di Arezzo di più rispetto alla media toscana. Nel 2022 le donazioni sono state 1960 contro le 1914 del 2021, un'ottima percentuale appunto anche per quello che riguarda i nuovi soci, soprattutto le donne under 25, sono la percentuale più alta della categoria. Sono i dati resi noti in occasione della 52esima assemblea regionale di Avis in Toscana. Si inserisce questo dato a retino in controtendenza rispetto appunto, come dicevamo, al dato regionale che invece soffre sotto il profilo proprio delle donazioni. in un contesto che vede le donazioni in calo a livello regionale, ha detto infatti il presidente di Avis a Retina, Adelmo Agnolucci, il nostro territorio è riuscito a rispondere positivamente agli stimoli che abbiamo diffuso a livello di sensibilizzazione. Il segno positivo significa che il percorso intrapreso è quello giusto. A lezione di zero spreco tornano le scuole primarie in visita all'impianto di San Zeno per la giornata appunto dedicata al tema dello zero spreco, corsi, incontri, tour guidati per imparare la salute alimentare e il rispetto dell'ambiente. Volevamo far conoscere ai ragazzi una realtà diversa, come funziona un termo valorizzatore, qual è la sua utilità e come un territorio può beneficiarne. Quindi insomma, non avendolo noi un termo valorizzatore nelle vicinanze della nostra città, abbiamo ben pensato di venire a visitare quello di Arezzo. Sono addirittura arrivati dalla capitale, dall'Istituto Paritario Sacro Cuore di Roma. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, zero spreco! Al polo di recupero totale di San Zeno sono infatti tornate le giornate zero spreco, protagonisti come sempre gli studenti, circa 700 quelli che non solo hanno visitato l'impianto per conoscere il percorso di recupero e produzione di energia a cui sono sottoposti i rifiuti urbani, ma anche per partecipare ai corsi organizzati da Zero Spreco Edu. Siamo veramente orgogliosi e contenti che si possa far conoscere questa realtà produttiva e di tutela ambientale non solo al territorio aretino, ma anche all'esterno. Significa che il nostro progetto Zero Spreco ha funzionato. L'obiettivo, come sempre, è quello di imparare divertendosi con corsi di cucina, musica, teatro e tanti laboratori per impegnarsi a non sprecare le risorse naturali del pianeta. Con cosa si fa il pane? Con la farina? La farina con cosa si fa? Con il grano. Il grano ce l'avete proprio davanti ai vostri occhi. Noi abbiamo coinvolto ben 28 classi con 601 alunni e oggi sono qui a fare questi meravigliosi percorsi offerti da AISA Zero Spreco per guardare con occhi nuovi a quelle che sono gli oggetti, gli scarti di cibo, appunto come delle risorse che possono avere nuova vita. Una firma fondamentale, quella posta ieri anche dal Presidente della Regione Toscana in un protocollo siglato assieme al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture a Roma che riguarda in particolare l'ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto Firenze-Pistoia. L'ampliamento alla terza corsia della A1 nel tratto incisa a Valdarno, la riqualifica delle carreggiate già esistenti e il redirezionamento delle stesse verso nord dell'autostrada A1 Milano-Napoli nell'ambito dell'ampliamento alla terza corsia tra Barberino del Mugello e Firenze-Nord. Il Presidente Gianni ha anche chiesto come contropartita una serie di opere che riguardano i comuni attraversati dalla A1 nella Retino. Saranno nel comune di Terronova Bracciolini dove sarà completato il secondo lotto della viabilità ordinaria che interessa l'area industriale. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della storia di Stitch, il servizio. Stitch perché ha questa faccetta un po' particolare come il cartone animato, gli occhi un po' distanti, amandorla, il nasino all'insù e questa facciona un po' più grossa del corpicino. Lui è Stitch, un gatto davvero speciale, salvato ed accolto da Casa Mau lo scorso agosto. Stitch infatti è affetto da nanismo. Ha varie patologie, non respira bene, anche i polmoni dobbiamo controllarli ogni sei mesi e quindi adesso ha l'esigenza di essere sterilizzato. Gli vogliamo fare degli esami particolari e comunque avranno un costo per cui chiediamo un aiuto da parte di tutti. Casa Mau è un'associazione animalista nata con il sogno di creare un'oasi felina in Valdichiana per essere un punto di riferimento per i volontari che si occupano di gattirandaggi, colonie e amici da salvare e a cui cercare casa. L'emergenza adesso, come ogni primavera, è quella dei gattini. Gatte che partoriscono e che comunque sia possono morire nella strada, i gattini rimangono da soli, quindi ci hanno chiamato ultimamente per cercare delle baglie. Le balie umane, sempre più necessarie in questo periodo dell'anno, si prendono cura dei gattini nel momento più delicato della loro vita per poi essere felicemente adottati. Fa tanti sacrifici. Prima cosa il latte è costosissimo, seconda cosa deve avere tanto tempo perché ogni tre ore i gattini devono essere allattati, quindi non avrà il tempo per dormire e poi comunque deve stargli dietro, c'è tanto sacrificio. Adesso invece parliamo di turismo che gode di ottima salute nel territorio aretino, anche se ancora non ha raggiunto i livelli pre-pandemia. A certificarlo sono i dati dell'Istat pubblicati dalla Regione Toscana e diffusi dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Gli arrivi in provincia di Arezzo crescono rispetto al 2021 del 39,1%. Il numero dei turisti rimane al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma sono comunque numeri assoluti molto alti, quasi 600 mila turisti. Dal Lazio e dalla Lombardia i turisti che appunto arrivano dall'Italia e chiamano di più Arezzo. Per quello che riguarda invece la componente straniera, il primo mercato è la Germania, seguita dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi, mentre per la città di Siena sono gli Stati Uniti in prima posizione, poi seguiti da Germania e Francia. Domani a Civitella in Valdichiana torna la Marcia per la Pace, da Civitella a San Pancrazio che coinvolgerà anche quest'anno gli studenti degli istituti comprensivi scolastici del territorio e i comuni appunto che sono stati interessati dalle stragi nazi fasciste. Nel 1944, l'anniversario dell'Ecidio è il 29 di giugno. La marcia toccherà ovviamente tutti i territori in questo 79esimo anniversario appunto dagli Eccidi. Adesso invece andiamo a Cortona, dove c'è grande attesa per Cortona Comics. Nove giorni dal 27 maggio al 4 giugno, da Sant'Agostino alla Fortezza del Girifalco, passando per Palazzo Ferretti e poi due weekend a tema e tananai in concerto. È così pronta per partire la prima edizione di Cortona Comics, il nuovo festival per gli appassionati del fumetto. Abbiamo un evento dedicato ai giovani, ma non solo. Evidentemente è un evento che sta suscitando tanta attenzione. Ci saranno disegnatori, ci saranno presentazioni di libri, ci saranno autori, ci saranno disegnatori, addirittura che lavorano per il Corriere della Sera, per il Fatto Quotidiano. Ci sarà un giornalista che è Filippo Conte, che si occuperà anche di presentare volumi e presentare personaggi. C'è una grandissima mostra di Cavazzano con oltre 100 opere inedite. Ci sarà Pietro Baldi, che è il nostro battitore libero. Tantissime voci per grandi e piccini. È un progetto molto ambizioso perché vuole far coincidere questa manifestazione divertente ad un progetto ben più ampio dove, grazie alla Scuola del Comics di differenze, abbiamo l'obiettivo di creare professionalità e dalle professionalità nasce anche impresa. Quindi questa manifestazione dovrà nel tempo diventare la conseguenza, la vetrina di un tessuto che speriamo che si crei nel nostro territorio. Circa 50 gli artisti che arriveranno in città, tra loro anche due illustratori cortonesi testimonial del festival. Finalmente c'è un comicon a casa. Io sono veramente contenta perché finalmente non devo prendere aerei per andare ad una mostra del fumetto. È bellissimo poi portare anche i miei amici, le persone che mi conoscono da una vita e fargli vedere il lavoro che faccio. Quindi è bellissimo, assolutamente. Quindi non vediamo l'ora di incontrare tutti gli appassionati di fumetto, i collezionisti, insomma, e il pubblico in generale che magari si vuole avvicinare a questo mondo vedendo proprio dal vivo gli autori del fumetto al lavoro. Il festival quest'anno si apre infine anche alla musica con una serata, quella del primo giugno, con Tananai, che si esibirà in concerto allo stadio della Maestà del Sasso di Camucia. Un fine settimana decisamente anomalo quello di Arezzo. Intanto, come sappiamo, è stata annullata la maxi area pedonale per via del maltempo, quindi nessuna chiusura delle strade in centro per consentire appunto a bar e ristoranti di poter servire, insomma, nelle piazze e nelle strade di Arezzo. Per domenica 21 maggio è invece confermato il mercatino del Calcit che, lo ricorderete, era stato rimandato dallo scorso 14 maggio sempre a causa del maltempo. Questa è la 69esima edizione. Come sappiamo interesserà diverse zone di Arezzo, da via Spinello a via Niccolo Aretino, via Guadagnoli fino a via Crispi, via Margaretona, nel tratto compreso fra Viale Michelangelo e via Niccolo Aretino, zone che saranno ovviamente off-limits a traffico e sosta. Come quelle interessate dall'evento Cavalli in Città che comporterà dalle 8.30 per il tempo necessario del passaggio dei partecipanti a questa iniziativa, appunto, alcune strade, molte per la verità, che proprio interessano il centro cittadino da San Firenze a Piazza Guido Monaco a Piazza Grande che saranno, come dicevamo, anche queste off-limits a traffico e appunto passaggio delle auto e sosta. A causa invece delle previste condizioni meteo che dovrebbero essere purtroppo di pioggia, la seconda edizione di Saione Mob, che era in previsione proprio questa domenica 21 maggio, è stata rinviata a domenica 11 giugno. L'evento si svolgerà sempre dalle 9 alle 19 tra Via Vittorio Veneto, Piazza Saione, Via Rismondo, Via Guelfa e Piazza Zucchi. Ed infine siamo allo sport. L'Arezzo Calcio Femminile comunica che su richiesta proprio della Federazione Gioco Calcio, Divisione Calcio Femminile, venendo incontro alle esigenze del Ravenna Women, la partita iniziamente in programma per domenica 21 maggio alle 17.30, è stata posticipata martedì 23 maggio alle 15 presso lo stadio comunale Città di Arezzo. Il posticipo è ovviamente dovuto agli eventi che hanno drammaticamente colpito l'Emilia Romagna in questi giorni. Tutta l'Arezzo Calcio Femminile esprime la più sincera vicinanza alla società Ravenna Women e alla regione Emilia Romagna. Adesso invece parliamo di volley. Ad Arezzo si festeggia il passaggio in Serie C. Volei Arezzo, un'annata straordinaria, la promozione in Serie C, siamo qui con mister Giorgio Peruzzi. Allora, dire che siete stati magnifici e dire poco, che anno è stato per questi ragazzi? È stato un anno importante, o estremamente importante, perché questo era un progetto che viene da un anno e mezzo, è un progetto importante che il volley Arezzo ha voluto con tanta forza portarmi qua proprio per questa cosa qui. avevamo programmato, quest'anno è stato un anno pesante, ma bello, perché i ragazzi hanno veramente dimostrato di fare il salto di qualità. Questo era un gruppo che all'inizio, fino ad un anno e mezzo fa, nessuno avrebbe pensato di poter fare questo campionato. Io ci credevo, abbiamo lavorato tanto, perché i ragazzi hanno lavorato tanto, e ora siamo una squadra. Siamo diventati una squadra, abbiamo dimostrato nelle ultime cinque partite un gioco e una capacità di concentrazione che sicuramente era superiore al livello tecnico della Serie D. E questo ci ha portato a questi risultati, perché noi abbiamo vinto, sulle ultime cinque partite, abbiamo perso una sola, e forse perché non eravamo al completo. Però abbiamo dimostrato veramente di essere diventata una squadra. Ora ci aspetta la cosa più faticosa, perché ci dobbiamo incominciare a rimboccare le maniche. Quindi una promozione che non è un punto d'arrivo, però per la società è un punto di partenza. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché il mio personale come tecnico, come direttore tecnico, ma della società, è quello di creare un polo pallavolistico, di una buona specializzazione, di poter far sì che i ragazzi non debbano andare fuori Arezzo per arrivare a certi livelli o per poter fare un pallavolo con una buona tecnica, e allora noi dobbiamo creare in questi anni, nei prossimi due anni, un centro di alta specializzazione della pallavolo. Qui abbiamo, come vedete, la struttura, perché questa è una delle poche strutture di un certo livello. Ci vogliamo mettere dentro la nostra capacità tecnica e i ragazzi per poter portare i migliori, i migliori e migliori giocatori che ci sono in provincia di Arezzo qui da noi per fare un polo veramente importante. Qui alle nostre spalle, infatti, vediamo tanti ragazzi, tanti giovani che giocano, quindi il volley Arezzo punta e pensa soprattutto a loro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi siamo da un anno e mezzo che sono qui io e puntiamo solo e esclusivamente al miglioramento tecnico dei giovani, perché siamo convinti che anche non c'è bisogno di puntare a vincere i campionati. Quando i ragazzi migliorano i risultati arrivano da sé e questa Serie D l'ha dimostrato, perché noi abbiamo piuttato che i ragazzi dovranno migliorare tecnicamente e noi dobbiamo pensare che noi in questa squadra qui avevamo 4.2 mila, 4 ragazzi del 2004 e 2 ragazzi del 2006, per cui è una squadra che al 50% era molto giovanile, proprio perché puntiamo a questo tipo di lavoro, sul giovanile e sul fatto di poter portare, di dare a loro le capacità tecniche che hanno diritto di avere. E allora, forza volley Arezzo e in bocca al lupo per tutti questi progetti. In bocca al lupo, crepi il lupo, noi ci siamo, e stiamo lavorando per sicuramente un bienio importante di pallavolo e di ragazzini giovani che possono esprimere questo sport al massimo. E anche per il basket, ed in particolare per l'Amen Scuola Basket, sono giorni di grande impegno, l'attesa è finita perché domenica si gioca la finale play-off contro il Prato in trasferta gara 1 in programma alle 18 alla palestra Toscanini. Entrambe le squadre si presentano a questo appuntamento forti di un primo turno superato in sole tre partite con la squadra pratese che ha eliminato la mensana Siena. Vedremo insomma come finirà, ovviamente saranno presenti insomma come sempre le nostre telecamere per raccontare appunto tutto quello che accade nel mondo del basket a retino. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.